Si avvicina il periodo caldo per le partenze, giornata gulmine probabilmente sarà sabato 5 agosto quando il traffico sulle strade e autostrade italiane sarà da bollino nero. E mentre i vacanzieri si apprestano a fare le valigie, il sistema Viabilità Italia presenta il piano dei servizi per l'esodo estivo che prevede più pattuglie su strade e treni, squadre di addetti alla sorveglianza e al pronto intervento in caso di emergenza, informazioni aggiornate su traffico e una riduzione dei cantieri inamovibili. Il tutto a fronte di una previsione di notevole aumento del traffico rispetto all'anno scorso. Nel mese di giugno ad esempio il traffico sulla A2 autostrada del Mediterraneo è aumentato nel 9,28% rispetto allo stesso mese del 2016. Appello dunque a prudenza, attenzione, soste e alle partenze intelligenti anche perché nel 2017 sono aumentati i morti sulle strade. Infatti a fronte di una diminuzione dei morti sulle strade censiti dall'Istat nel 2016 rispetto al 2015, nel 2017 dal 1 gennaio al 16 luglio sono nuovamente aumentati i morti in strada. Sulla rete Anas nel periodo estivo saranno ridotti i cantieri del 30% rispetto al 2016. Sugli oltre 26.000 km di rete Anas i cantieri attivi saranno 162, di cui 35 su autostrade e raccordi autostradali, 127 sulle strade statali. Il numero maggiore di cantieri è presente sulla A19 Palermo-Catania. A sostegno degli automobilisti, prevista da Anas una squadra di oltre 2.500 addetti per la sorveglianza e il pronto intervento in caso di emergenza, 1.100 gli automezzi impiegati, 1.830 telecamere e 530 pannelli a messaggio variabile. Nel periodo estivo la Polizia Ferroviaria disporrà tra l'altro una media quotidiana di 1.650 operatori e 700 pattugne in stazione e a bordo treno. Tra le novità arriva il Telepass Pay. Si tratta di un circuito di pagamento unico che per venire in conto alle nuove esigenze di mobilità consentirà per esempio di pagare benzina, bollo auto, multe, taxi, trasporto pubblico, locale e strisce blu.